4 minuti a fettura, vabbè se stupo te lo diceva bene si prepari i calvelli contro pesce stalo solo abbracciando no ma ce l'ha dando la festa non vorrei cammino a testa, non devo che sto pagando gli altri camillo puoi andare da questa scema? chi è? chi lo manda a merito? dai c'è il termometro a ceccanetti c'è il termometro a fettura 5 minuti a 4 minuti ma c'è prima di tutto il giornale ma poi quando arriva a parte buttiamo questo se lo vuoi buttare? eeeh le fascette c'è il termometro a fettura solo a portare a quell'altro tappeto grazie le gambe grazie 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 a perché ci sono atterrato contro Stai sotto di uno Antonio? Per l'atterramento. Prepari i pesce calvelli. Punto giusto giusto. Vinci Sabia! Una cingasta da bella roba.